Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video Anche questo era di un nuovo vlog Perché oggi è il 27 di gennaio Sto per partire a Milano È quasi mezzogiorno E devo andare a Milano perché vi devo vedere con Iris e Marco E anche un'altra persona che però ancora non vi dico Ho scoperto dopo E in realtà oltre a quella persona con cui mi vedrò Mi vedrò anche con altre tre persone Però ancora non vi dico nulla E resterò lì a dormire Perché domani c'è l'evento della The Crew E quindi dato che oggi devo fare delle cose a Milano Restole a dormire E domani c'è l'evento e il numero dell'ora Allora Marco Ciao Sono arrivati Sono una taglia di DRTL perché adesso con i The Colors Dovremmo fare delle cose E dopo poi vi mostriamo Yes Sapete cos'è un vlog? Un vlog? Non so nemmeno cos'è un business Dai, certo che lo sappiamo Cos'è un vlog? E' una cassettina di B Che fai video e balli così e li velociziano E' vero E' un video contenuto da postare su YouTube In cui riprendi tutta la giornata Ah ok Ok C'è proprio l'atteggiamento della professoressa che mette in difficoltà Immagino mi ricordi le mie insegnanti Italiano Ma 9x9 Ma tu non ho 81 No, quella era troisi era Quanti vlog c'hai? Io Uapino Mi hai scelato la casa Anzi Ma che non è sempre quella che ti puoi vedere da lì Ma che non è sempre quella che ti puoi vedere da lì Ho capito Ho fatto selfie pure la camera figa E cosa stiamo facendo? Musical.ly? Stiamo facendo musical.ly, vlog E poi Cioè noi in realtà suoniamo pure A volte A volte Forse tipo andiamo a Sanremo Con un pezzo che è Frida E che è? Bellissimo E il videoclip è? E il parere più spontaneo E il videoclip è? E super Ciao Ciao And there she goes Yeah Yeah Go La grande è Sophie We love Sophie È la via tu Sembra un commesso di footlocker O del primo Uno giuventino Uno giuventino Stai With you Between My arms Perché si dompi The cross Abbiamo incontrato qualcuno in Duomo No No Tu un uomo? No No C'ha detto Sono un uomo Vedi lo vedi il uomo? No Ma dove? Dove sono? Non lo vedo No E niente C'è un po' di gente C'è un po' di gente Un po' E c'è anche io No 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 Ciao 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 Siamo fermi qui Da tipo Un'ora Un po' 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 Stiamo aspettando qua davanti al Duomo Una persona da tipo un'ora Quindi muoviti Perché vedrà questo video Veloce Sonny muoviti Sonny 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 Ciao Raga ho dimenticato l'acqua Io devo bere Siamo nelle sue mani in giro per Milano Eschere Siamo preoccupante Molto Farsi notare Perché E' impazzito Cosa è Genny Sto ringraziando Isandi Perché è successa una cosa Che aspettavo da tanto tempo Senza essere molto cattiva Però Quando certe persone Fanno le brutte persone Una cosa un po' Cosa Cui Genny De Nucci È milanese Non ti stava a far prendere Senti Io non sono di Milano Sono di Monza Devo ricordare un'altra volta Ma la metro la prendi la stessa La gialla Non La rossa Stai impazziti per dei gatti Io morta Voglio quel gatto 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 Quello del collegio Non l'ho guardato Non l'ho guardato Ci sarà Ci sarà Ci sarà Bello Allora Buongiorno Il giorno dopo E' tardissimo E' tardissimo Perché è tipo mezzogiorno Ieri sera Poi siamo tornati Qui in hotel E E Jenny è andata via E forse La rivedremo stasera Forse Adesso Dobbiamo andare Nell'altro hotel Dove starà lui stasera E poi Poi Dobbiamo andare All'evento E noi Andiamo Allora Ciao a tutti Io sono Ieri Mi sono appropriata Di questo canale E adesso Adesso si chiamerà Ieri Sferrari Questo canale Non in poi Si chiamerà Ieri Sferrari No Non te lo do No è mio canale Che c'è No Perché questa persona È in live Ciao 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 E Stiamo in macchina Stiamo andando Al centro commerciale Non si vede nulla Perché c'è buio Ciao Ciao Allora Ma la luce Come si alza la luce Amicizia Bella Amicizia Che ci abbiamo Ma perché sono io Comunque Dove guardare qui Non qui Io guardo sempre qui Ma è scomodo E poi guardare anche La strada Comunque Questo canale d'ora in poi Si chiamerà Iris e Marco Io Sofì Gira di Sofì Vabbè insomma Iris e Marco Iris e Marco Iris e Marco Ciao Ciao Sì Ciao Ma la luce sta qua Vabbè Comunque Iris e Marco Cosa Ha detto Dai guarda Sofia che sta editando Questo video lo vedrai Quindi devi mettere questa parte Altrimenti Mi faccio Quindi Vi tantica Ma ne faremo un'altra Vi aspettiamo oggi Al centro commerciale Cattiva Di Milano Di Monza E vi aspettiamo Ciao Io pure lo voglio salutare No Ciao Siamo arrivati al centro commerciale Vabbè Siamo arrivati al centro commerciale Perché non mi calcolano Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì grazie 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 non ti basta No ti basta, uno e duele! No ti basta al arco, uno e duele! Ciao grazie ragazzi! Ciao ciao ciao! Ciao ciao! Tantissimo piacere, quindi davvero davvero grazie per domenica e soprattutto grazie per tutti i regali che mi avete portato, che davvero sono tantissimi. Ho la stanza di là piena di cartelloni e regali e sto cercando di sistemarli in modo da poi mostrarveli tutti anche insieme a quelli degli altri incontri. Comunque grazie mille intanto per questo e poi grazie mille ovviamente anche a Sonny, che non la vedevo da un sacco di tempo, perché è una persona davvero speciale e che sono felice di avere nella mia vita. E quindi grazie mille a lei. E poi ovviamente grazie anche a The Colors, perché abbiamo passato del tempo con loro. La loro nuova canzone che andrà a Sanremo, Frida, è bellissima, io ne sono innamorata. Non vedo l'ora che arrivi Sanremo, ovvero la prossima settimana, perché in questo modo potrete ascoltare anche voi. E ovviamente non vedo l'ora che arrivi Sanremo, anche per poterle supportare il più possibile. E in più ovviamente ringrazio anche Elisa e Marco per il bellissimo weekend. Detto questo vi mando un bacione grandissimo, spero che il vlog vi sia piaciuto e che vi siete divertiti, perché come sempre io vi ho portato con me. Detto questo vi mando un altro bacione, ci vediamo venerdì prossimo alle 19 con un nuovo video. Lasciate un bel like se il vlog vi è piaciuto e anche un commento. E seguitemi su tutti i miei social. Ciao!